Anticipazione un posto al sole. Giovedì 13 agosto 2020. Clara è in procinto di tornare d'Alberto. Ma qualcosa potrebbe sempre accadere. Nunzia intanto si ritrova a dover fare conti con i suoi sentimenti. Mosso dall'urgenza di inchiodare Mariano Tregara e visibilmente preoccupato che Palladini possa ledere alla sua serenità familiare e Eugenio fa un ultimo disperato tentativo. Si reca dall'uomo per parlargli. Intanto riesplodono sempre più le tensioni tra Filippo e Serena che hanno punti di vista differenti su ogni cosa. In forte crisi per essersi bloccata durante la pratica in reparto, Rossella scoppia a piangere. Per fortuna la ragazza può contare sul sostegno e sull'incoraggiamento di Ornella. Grazie a tutti.